Ciao ragazzi, benvenuti in questo secondo video dedicato al ritmo. Per chi non l'aveste già fatto, vi invito ad andare sul mio canale YouTube ad iscrivervi e a cercare il primo video dedicato al ritmo di questo mini corso. Parleremo di vari esercizi, impareremo a sorfeggiare le note nel pentagramma solo ritmicamente per ora e soprattutto miglioreremo il nostro senso del ritmo e quindi di conseguenza i nostri accompagnamenti con la chitarra. Allora vi raccomando di guardare il primo video anche per capire concetti base per fare questi esercizi molto particolari che sono degli esercizi ritmici. La scorsa volta l'abbiamo fatti senza la chitarra, oggi li facciamo prima senza la chitarra e poi con la chitarra, ma non la suoneremo, dopo vi faccio vedere in che senso. Allora passiamo subito al primo esercizio. Vedete, sono degli esercizi basati sulla croma. La croma, che le vedete quelle due note dopo i due quarti? Due quarti sarebbero due movimenti da un quarto, ve l'ho spiegato nello scorso video. Ok, quelle due note sono due crome. Le crome valgono la metà della semiminima, valgono un ottavo, la semiminima vale un quarto. Quindi ce ne vogliono due per fare un solo movimento ed è per questo che sono assieme. Infatti i due movimenti sono così suddivisi, i due movimenti della battuta. Il primo movimento è occupato dalle due crome, il secondo movimento dalla semiminima e potete ben vedere che quasi tutto l'esercizio si sviluppa su questa cellula ritmica, mentre alla fine del primo rigo abbiamo una minima. La ricordate? La nota bianca con il gambo che vale due quarti e due movimenti, perciò è da sola, perché da sola c'è. Solo lei ricopre tutti e due i movimenti della misura. Allora, vi ricordo sempre di munirvi di un metronomo o lo scaricate tramite le mille app gratuite che ci sono, sia per iOS che per Android, oppure basta scrivere su Google metronomo ed esce sul motore di ricerca un pratico ed utile metronomo. Come soffeggiare le crome? È molto semplice. Abbiamo detto che valgono la metà della semiminima, quindi ad ogni movimento ne dobbiamo mettere due. Vuol dire che ad ogni battito di metronomo dobbiamo battere due volte le mani sulle nostre gambe. Allora, le semiminime battiamo solo la mano destra, così. Come vi ho fatto vedere la precedente lezione. Le crome invece battiamo destra-sinistra, così. Ok, vi è chiara questa differenza? Perfetto, possiamo andare avanti. Andiamo adesso a surfeggiare il primo esercizio ritmico. Andiamo adesso a surfeggiare il primo esercizio ritmico. Passiamo all'esercizio numero due. Come vedete è un esercizio in quattro quarti, come ci suggerisce la frazione che si trova all'inizio del pentagramma. Anche qui c'è un'alternanza di crome semiminime e anche di crome eminime, ma sono valori che oramai abbiamo capito benissimo quanto durano. Benissimo! Adesso siamo pronti a rifare questi due esercizi stavolta con la chitarra. In cosa consiste questo esercizio? Dobbiamo sostituire quello che era il battito delle mani sulle gambe con lo strumming. Quindi faremo tutte le semiminime verso il basso, come prima era soltanto la mano destra, e tutte le crome invece facciamo giù-su. Ok? Quindi le due crome saranno giù-su. Le semiminime tutte tutte in giù. Facciamo una prova con il metronomo. Semi-minime, le crome, cioè dobbiamo praticamente suonare anche al ritorno. Va bene? Se usate il plettro ovviamente non cambia niente. È la stessa cosa. Iniziamo col primo esercizio. Ah, una piccola premessa. Dovete mantenere, stoppare le corde con questa mano. Vuol dire che non dovete premere troppo forte, altrimenti tenderanno a suonare. No, dovete praticamente accarezzarle, sfiorarle, ed è così il suono sarà totalmente stoppato. Grazie. 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 Ok, idem per il secondo esercizio. Andiamo. E' un'altra cosa. Abbiamo terminato la nostra seconda lezione sul ritmo. Vi aspetto alla terza. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube e di lasciarmi un bel pollice in su se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi anche al gruppo e invitate gli amici a seguirci. Ciao, presto!